Un servizio di prima assistenza su WhatsApp per le neomamme e aretine. Si tratta di un progetto dell'associazione Latte di Mamma, mamme alla pari che operano come volontarie nel territorio aretino per aiutare le neomamme e le nuove famiglie. L'arrivo di un nuovo bambino è infatti un momento di grande emozione, ma può portare ai genitori e soprattutto alle madri anche qualche fragilità e debolezza, fatiche che non riguardano solo l'allattamento, ma possono essere di qualsiasi natura. Presto sarà così attivo il servizio WhatsApp che permetterà alle madri di avere un consiglio, un confronto e un momento di dialogo sempre a portata di mano. Basterà infatti mandare un messaggio e attendere dall'altra parte la risposta di una mamma alla pari, che grazie alla sua esperienza e alla formazione ricevuta dall'Asla Toscana Sud-Est, potrà dare consigli ponderati e affidabili e guidare eventualmente verso il professionista o il servizio sanitario più adeguato. Tutto questo è stato reso possibile grazie a un'azienda retina pioniera nella trasformazione digitale in Italia, che ha donato all'associazione uno smartphone per avviare questo servizio. La consegna verrà ai primi di luglio e permetterà all'associazione di prendere confidenza col servizio e perfezionarne l'avvio.